...anche questa vicenda per capire davvero che cosa sia accaduto. Grazie Flaminia Bolsanna per essere con noi. Cambiamo pagina, dovremmo essere in questo momento con Filomena Leone da Serra di Falco, siamo in provincia di Caltanisetta, quelle immagini terribili che dobbiamo vedere ancora una volta arrivare da una struttura che in teoria dovrebbe accogliere, in questo caso disabili psichici che invece venivano vessati in tutte le maniere. C'è stato un arresto, ci sono persone domiciliari, ci sono soprattutto immagini terribili, Filomena, che testimoniano quanto avveniva in questa struttura di Serra di Falco. Eccole, le rivediamo. Filomena, raccontaci questa storia. Esatto, Gianluca, quello che vedete alle mie spalle è proprio l'edificio, l'edificio della struttura che ospitava i nove anziani disabili che sono stati sostanzialmente, hanno subito dei soprusi, sono stati malmenati, maltrattati, ci sono dei video, così come accennavi tu, che proprio testimoniano quanto è accaduto. Gli operatori, uno di questi finito in carcere, altri due agli arresti domiciliari, praticamente malmenavano queste persone, ci sono video, come potete vedere, violenti, le percosse, molte volte schiaffi, pugni e addirittura li picchiavano, pensate, con le sedie. Ci sono anche video di questo tipo. Addirittura c'è un video emblematico, secondo gli investigatori, perché un non vedente veniva picchiato selvaggiamente proprio da uno di questi operatori. Le misure di custodia cautelare sono cinque, come dicevamo, e quindi questa è la storia, immagini veramente shock che ci arrivano da Serra di Falco in provincia di Caltanissetta. Siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, come dicevamo, misure cautelari, sono cinque. Le indagini sono coordinate dalla procura di Caltanissetta e dal NAS di Ragusa. È stato proprio il NAS a piazzare le telecamere nascoste all'interno proprio della struttura dove venivano ospitati questi nove. Sì, tra l'altro erano anche malnutriti perché non davano loro da mangiare, quindi questi anziani erano anche malnutri. Fra poco, Filomena, ci racconterai anche grazie a NAS di Ragusa come è partita questa inchiesta. Le immagini sono più che eloquenti, insomma. Sì, prima però vogliamo vedere in questo filmato la ricostruzione dell'accaduto da brividi. Una schiaffezza del genere che se l'aspetta. Tutti sbalorditi siamo le maestri. Lei è del posto? Sì, sì, io abito qui sotto proprio. Non sapeva nulla, non conosceva nessuno? Nessuno si poteva aspettare una cosa del genere, scusa. Qua mancò a mangiare gli davano. Come abbiamo visto che gli davano il pane duro, quello che si dà agli animali, e lo mettevano a mollo e poi glielo davano. Questa è la cosa che la indigna di più? Tutto, veramente. È una cosa che non si può manco ne pensare. Qui a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, nessuno se lo aspettava. Sono increduli i cittadini per l'inchiesta su una struttura per disabili trasformata in un girone dell'inferno. È quanto si vede nei video delle telecamere nascoste, che mostrano anziani, inermi e indifesi, picchiati, vessati, insultati e malnutriti. I nove ospiti dell'istituto affetti da gravi disabilità psichiche, vittime di presunti soprusi. Le indagini condotte dal NAS di Ragusa sotto la direzione della procura di Caltanissetta si basano su pedinamenti, intercettazioni e video delle telecamere nella sede della struttura socio-assistenziale di Serra di Falco, ora posta sotto sequestro. Sono rimasto malissimo, indignato. Io ho una mamma che aveva 86 anni e sapevo una cosa del genere bruttissima. Sdegno, sicuramente. Non immaginavo una cosa del genere. Cinque le misure di custodia cautelare emesse dal GIP per gesti inimmaginabili. L'operatore di 53 anni finito in carcere deve rispondere delle accuse di violenza sessuale aggravata perché avrebbe abusato di una donna di 80 anni, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione infermieristica per aver somministrato medicinali. L'uomo si è rifiutato di rispondere all'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari. Passavano da questa farmacia perché siamo praticamente di fronte. Non ha mai notato nulla di strano, non ha mai avuto alcun sospetto. Assolutamente no. Per il gestore e un'operatrice disposti gli arresti domiciliari interdetti dalla professione per un anno o altri due dipendenti. La spesa stanziata per il sostentamento dei nuovi disabili era di soli 200 euro al mese. I pazienti infatti erano malnutriti e alimentati solo con pane raffermo, ammollato in acqua, recuperato dagli scarti. Insomma, un modo per risparmiare e guadagnare il più possibile dalle pensioni degli ospiti, costretti a vivere distenti e privazioni. Allora, Flaminia Polzano, abbiamo visto queste immagini raccapriccianti. L'idea che ci si possa accanire contro degli indifesi è quanto di più orrendo si possa pensare. Ma il fatto che ci fossero delle telecamere nascoste e piazzate indica che qualcuno ha denunciato. Si sa da chi proviene la denuncia, se dai parenti delle vittime, se da qualcuno all'interno? No, personalmente non sono in grado di dirti chi abbia fatto questa denuncia, ma comunque insomma sicuramente dovendone parlare exposto un plauso a questa persona perché ha posto l'attenzione su una situazione gravissima. Purtroppo non siamo nuovi a queste situazioni e quindi l'invito ovviamente è laddove possibile, laddove ci sono dei familiari, cercare di essere presenti. Perché le persone anziane in generale, le situazioni in cui insomma ci si rapporta con delle persone in situazioni di disabilità psicologica come in questo caso, gravi anche, perché abbiamo sentito insomma che le accuse non rientrano solamente diciamo sul versante del maltrattamento, ma si parla anche di una violenza sessuale chiaramente aggravata proprio dall'inferiorità psichica e da tutto quello che ci gira intorno. L'interesse dei cari è diciamo il primo strumento, possiamo chiamarlo così, di prevenzione. Un altro grande dibattito che insomma è opportuno riaprire e rinnovare è rispetto all'opportunità dell'installazione comunque di un circuito di videosorveglianza che se per alcuni aspetti sicuramente potrebbe rappresentare una violazione della privacy per gli ospiti, anche per il personale, però alla luce insomma di numerosi diciamo episodi ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni beh forse potrebbe rivelarsi insomma un elemento pregnante. Anche perché quello che ci sconvolge, scusate se mi allungo su questo, ma è un tema che mi sta particolarmente a cuore perché tutti quanti diciamo ci troviamo a sperimentare nel nostro ambito familiare situazioni in cui magari abbiamo un caro che non siamo in grado di assistere e che quindi colloquiamo magari in una struttura. Allora sicuramente valutare anche il personale perché qui siamo insomma non di fronte a persone che magari possono aver avuto una reazione abnorme perché prese dallo stress in relazione ad una situazione complicata per la gestione dei pazienti. Qui siamo di fronte a veri e propri atti di sadismo o perlomeno questa diciamo è la mia interpretazione. Atti gratuiti, Flaminia, da quello che sappiamo peraltro per capire probabilmente come è nata questa inchiesta. Se come diceva Roberta qualcuno ha denunciato o se era un controllo, se c'erano dei sospetti. Possiamo tornare a Serra di Falco in provincia di Caltanisetta? Filomena Leone dovresti essere con il comandante di Nass di Ragusa e così Filomena? Esatto, con il sottotenente torchiano. Non ci sono state però denunce. Questo ce lo può confermare il nostro ospite, è vero? Sì, parte tutto da un servizio programmato dal nostro comando tutela salute in concerto col Ministero della Salute che ha disposto a fine anno, soprattutto anche per l'emergenza della pandemia, quindi Covid, dei controlli alle strutture socioassistenziali per le persone più fragili. In particolare, diciamo, quando è stato effettuato il controllo a questa struttura, i militari operanti si sono resi conto che materialmente c'era qualcosa che non andava all'interno, ovvero non hanno trovato cibo per la disponibilità da somministrare agli ospiti. Gli ospiti, quando praticamente passava anche l'operatore o il militare che stava effettuando il controllo, cercavano di scansarsi, cercando di cautelarsi da qualcosa che magari poteva arrivare all'improvviso. Visto questa situazione, le condizioni strutturali, non ci siamo limitati semplicemente alla classica chiusura della struttura, ma si è pensato di informare alla Procura della Repubblica che, in pieno concerto, sposando le nostre considerazioni, ha accettato di buon grado di avviare un'attività di indagini. Inizialmente sono state piazzate delle telecamere. Quando si è avuto già il primo avviso che c'erano delle violenze in atto, sono stati ambientalizzati i locali e si è partite con le intercettazioni, i pedinamenti dei sospettati. Quello che noi presumevamo durante l'attività di controllo, alla fine si è rivelato veritiero. Questi anziani avevano dei parenti, hanno dei parenti? Era una conoscenza di quanto avveniva? Allora no, non era una conoscenza perché sono soggetti che comunque in qualche modo sono stati abbandonati, tra virgolette. Qualcuno aveva il tutore che comunque pensava che la struttura fosse idonea, pagava regolarmente la retta e pensava che l'assistito fosse sistemato in una struttura idonea. Quindi prede facili sostanzialmente per gli indagati. Quali sono i capi di imputazione? Allora, stiamo procedendo, la procura di Caltanistetta sta procedendo per il maltrattamento aggravato, violenza sessuale aggravata, come avete detto prima, nei confronti di una signora, ahimè, diciamo, ultraottantenne, e per l'esercizio abusivo e per l'abbandono di incapace. Nello specifico, proprio per questa parte di specie di reato, abbiamo accertato lungo il corso delle indagini e i servizi di controllo e pedinamento e l'unico operatore che attualmente si trova in carcere abbandonava praticamente la struttura lasciandola alla merced degli essessi ospiti, in particolare di un'altra ospite che, ahimè, era schizofrenica che in qualche modo prendeva la sembianza di colui il quale aveva lasciato la struttura che utilizzava spesso e volentieri anche, diciamo, le mani o bastoni per picchiare gli altri ospiti della struttura stessa. Quando è stata avviata l'indagine? L'indagine è partita a fine anno del 2020, però si è concretizzata a inizi del 2021 con l'attività proprio tecnica di intercettazione, sia ambientale, audio e video. Sì, sì, Gianluca. No, ringraziamo il comandante di NAS. Possiamo dire veramente a commento che non c'è limite all'orrore di fatto. Grazie, comandante, ovviamente per il suo collegamento. L'ultimissima cosa, Gianluca, però rassicuriamo tutti. Per gli anziani, volevo chiedere al sottotenente dove sono gli anziani, sono al sicuro in questo momento? Allora, sono al sicuro in una struttura protetta grazie alla collaborazione dell'ASP di Caltanissetta che ha fornito mezzi e uomini, in particolare il giorno dell'operazione, in piena sinergia con il mio comando, ha fornito tre autisti, tre mezzi, due medici, due infermieri e un assistente sociale. Possiamo sperare, Filomena, che adesso possano avere tutta l'assistenza, tutto anche l'affetto che è mancato a queste persone ovviamente in questi mesi. Ce lo auguriamo. Grazie comandante, grazie Filomena, grazie per questo collegamento. Adesso ci spostiamo. Grazie.